Stato programmato per lunedì il prossimo Consiglio Comunale di Battipaglia, dopo quello tenutosi la scorsa settimana. L'assise è fissata dunque per il 5 novembre e per giovedì 8 come seconda convocazione. 11 punti all'ordine del giorno, fra cui spiccono la mozione presentata dai consiglieri di Forza Italia relativa alle banchine pedonali di Serroni Alto, il piano di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale e le due prese d'atto relative ad altrettanti decreti di assegnazione di beni confiscati alla criminalità organizzata.